eccomi qua eccomi qua sono pronta sono pronta carichiamo subito siamo già al 12 settembre allora avevo già preso la papesse si la papesse e anche la torre perché dopo voglio il matto del monaco ok quindi andiamo prima a fare questioni con mi ha scritto grande così non devo andare a cercarla vediamo se ha fatto qualche progresso Quindi, per quanto riguarda un po' di più, per quanto riguarda il nostro corso. Per quanto riguarda i conti, per quanto riguarda il nostro corso, per quanto riguarda il nostro corso, non è vero? In questo caso, la mia moglieva fare fare il nostro corso. E quindi, per quanto riguarda, un carattere è tutto quello che fare. E poi, per quanto riguarda il nostro corso, tutte le persone hanno dato il nostro corso. E quindi, per quanto riguarda il nostro corso, come fa a dire che non sembra molto affidabile è il ritratto dell'affidabilità ci sono Sì, però è certa in modo che toglie più di meglio. Allora, guarda. Allora, guarda. Guarda sui, guarda. Guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Benzinaro, per me è numero una Vai Huka, mi ha portato da mangiare Buonasera Mantesso, come stai? Ma è puntualissimo oggi, cosa succede? Puntualissimo Ah, è arrivato perché sentiva l'odore del mangiare Perché sentiva l'odore degli oni e anche giri O forse l'odore della benzina, non lo so quale dei due sentiva Ok, allora Ok, andremo dal monaco, torre Torre, vero? Sì, torre E vediamo che cosa di bello da raccontarci Andiamo al club Io ho sempre mal di schiena Perché lei è in zoom? Ma vediamo la gente che mulina Ok Io è incastrata nel tavolo, vabbè Passiamo il tempo con Mutatsu Buonasera Leonida, come va? Anche tu in tenda? Avete la tenda matrimoniale, tu è il Mantesso? Wink wink Scusate Quindi è stato abbandonato da moglie e figli. Quindi è stato abbandonato da un'altra cosa, ma non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. Vuole che rimorchiamo il posto suo. Nivelamento del cibo, infatti, però come dire, insomma, per una volta che volevo una cosa io ogni end, sempre l'ultima rotta di scorta del riscioso. Non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. Ah, conto le stagioni addirittura da quando ci siamo conosciuti che ero molto con Il tempo vola e mentre scorre cambiano tante cose Ma al tempo stesso alcune cose in questo mondo rimarranno sempre uguali Eeeh... è vero direi Pensa molto alla torre ultimamente La torre direi che si riferisce a Tartaro Non ci conosciamo da circa come dire dieci anni Eeeh... parlo o ti faccio? Incarcerare? Ah no Ridendo e scherzando Rango 6 Pronto? No no ragazzi mi spiace Oggi non ce n'è per nessuno se non per il mio amico Scingiro Chissà se ci rivela qualcuno dei suoi secreti Non compro niente da Tanaka Non compro niente Sarà giù no? Nei pressi della cucina Credo Certo Scingi Dov'è? 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 Sempre lì seduto Oggi fa lo splentito Ah eccolo qua Se al momento vieni da me E come no? Andiamo Ah è qua nel vicolo Con le genti Andiamo da Huka No no andiamo da Scingi Sentiamo Sentiamo cosa ci dice Dove ci porta? Ah ci porta a mangiare Oh Che mi hai portato qui? Cibo è pieno gratis Ci ha portato qui perché si ricorda che ci ha promesso Che ci avrebbe offerto qualcosa Bravo Sei molto fedele? Ha senso? Ripaga i debiti Bravo Nel fatto sei molto fedele Sapevo più di Di cane Che di persona La parola ha un valore soprattutto se riguarda cene e offerte Esatto esatto Bisogna sempre sempre mantenere la parola data Fatti gli affari tuoi Mitsuru ma guarda te Ancora Ma non ci vuole tornare a scuola Altrimenti l'avrebbe già fatto Allora Assolutamente Spottrima No Si Questa Tutto Non c'è il mio caso Sì, in effetti questo comportamento è un po' strano Perché lui ha voluto tagliare i ponti Però all'improvviso è tornato al dormitorio Che comunque è proprietà della scuola O comunque legato alla scuola Ma non vuole tornare a scuola Quindi perché? Che piatto la Minsuruna e Manchi Carabinieri Stanno così addosso, la cacci No beh, lei comunque è padrona praticamente Del dormitorio A momenti padrona della scuola Magari vuole sapere le sue intenzioni E poi credo sia anche in parte preoccupata Ha tagliato i ponti Ma quando si è ritrovato sotto i ponti Li ha rilacciati, esatto Ecco, non sapevo di cosa ero capace Comunque lui solleva a Mitsuru Da qualsiasi responsabilità Per quello che è successo E che ancora non sappiamo con certezza Eh, non puoi costringerlo Semplicemente non sei un'autorità Non sei sua madre Non puoi costringerlo Ha ragione Salaviamola anche noi di peso E gettiamola in cui ci spugli là Damocchio ha superato il limite Sì, lei è sempre molto È un po' un gendarme lei E' un po' un po' un po' un po' Ecco, è arrivato anche quell'altro A posto Prima ancora ancora Adesso ogni volta che ti vedo Cambierei stata la cieca Anche se sta passando un tir Eh, praticamente Akihiko ha fatto un riassunto Assolutamente giusto Ha una domanda Dicca, dicca, dicca Che spirituoso Quello è un top cerotto che non si scolla più Oppure ne cambia uno al giorno In quel caso top fornitura Eh, non lo so Non lo so perché Continua ad avere sto cerotto Boh Ehm, passimo tempismo Sembra sempre che debba fare un plie La sempre descritta Mitsuru È una ballerina Pessima maglietta Anche con questo scollo a V No, no D'estate D'estate Oddio Con gli abiti così non li mette Solo con l'uniforme E anche nel tartaro Che poi non si sa Che cosa servissero i suoi guantini Ma vabbè E anche la figuraccia di oggi Akihiko se l'è fatta Le divisioni di Welcome Back Esatto I capellini Allora torniamo dal nostro amico monaco I capellini, bimbetto, lopide Uka che fa benzina Anche se abbiamo già Il salvatoio pieno Top gruppo Tipico dei persone E vedi che alla fine è contento il monaco Sarà per quello che l'apprezzo come saga Mi scusi monaco Mi scusi monaco Potrebbero starmi bene Sì Sì Diamo gli corda Sì Si starà anche più comodi ma farà anche freddo. Tra qualche anno diventerai un cesso d'uovo, vedrai, non si scappa, eccalà. La tocca piano il monaco. Avrai dolore anche quando sbatterai le palpebre e rimpiangerai che adesso hai lasciato scappare ogni ragazza che ti è capitata a tiro. Vabbè, dettagli. Soprattutto quella Chihiro, se non sbaglio. Soprattutto quella. Ci ha cacciati. Brutalmente. Sento la gente che parla. Cosa farà la tua classe per il festival culturale? Una casa infestata? Scommetto che a me toccherà fare il fantasma. Non sembra poi così male, devi solo presentarti e mettere il costume. Io devo esercitarmi per uno spettacolo di magia. Ho sentito che sta arrivando un tifone. Pare sia grosso, secondo te la gente verrà? Manca poco al festival culturale, a quanto pare. La gente, le due barbara, c'è anduro, sono sempre loro. Oggi iniziamo un nuovo capitolo, parleremo della difficile situazione di Nick. Questa storia mi ricorda di quando conobbi mio marito. Che tempi folli. All'inizio eravamo un po' distaccati, ma dopo aver passato un po' di tempo insieme, all'improvviso capì che era lui la mia dolce metà. Oh, mi è appena venuta a mente una domanda. Micico, visto che ci siamo guardati, a chi si riferisce quando si parla di dolce metà? A chi ci si riferisce? L'anima gemella, no? Sì, splendido! La dolce metà è la nostra anima gemella, la persona con cui siamo destinati a stare. Quella da cui non vuoi mai separarti e che avrai sempre a cuore. Chiunque ti faccia sentire così è la tua anima gemella. Se un giorno incontrerai una persona che ti fa sentire così, accetta quello che provi e la tua anima gemella abbraccia aperte. Wow, guardate che ore sono, torniamo alla nostra lezione. La mia parte destra o sinistra dipende da dove porta a guardare. Va bene. Andiamo a mangiare con Fuka. Voglio salvare però. Non mi fido più. Grazie prof, anche se riesco la vita quasi ogni giorno. Certo, il brivido della passione. Ormai dopo Chichiro. Mi è rimasta solo lei. E tu? Oh, cerca il libro di ricette. Oh, cerca il libro di ricette. Andiamo a Fuka, oggi ti voglio far scoprire una cosa nuova. Gli altri colori, mi ringrazierai, vedrai. No, lei è sempre un pandan. Tono su tono. Che c'è? E mi porterai del rame. Ma perché parla così a bassa voce ogni volta? Che mi capita anche di interromperla. Ma perché parla così a bassa voce ogni volta? Ma perché parla così a bassa voce ogni volta? E' un po' di più. E' un po' di più. Ma perché parla così a bassa voce ogni volta? E' un po' di più. Ma perché parla così a bassa voce ogni volta? E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. Perché c'è Snake negli scatoloni Che non si fa gli affari suoi Fuka lo ha beccato Non fa niente Fuka Basta che parli a me Ma dai Poi fa le pause sceniche Mi porti del cibo Fa le pause sceniche Non si capisce quando ha finito di parlare Ma Mi 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 mica le fa apposta e chi lo sa può dire questo con certezza ti prego arriva al punto sono certo di essere certo per poterlo dire con certezza bene se lo dice lei mi fido sì sì le do tempo intanto sono sveglia no 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 fretta devo andare a fare giardinaggio con il mio amico Shinji dopo e lei è qua che fa le pause sceniche e che cos'è non fa le pause sceniche dipende dal giardinaggio come al solito pomidori patate no non va bene non va bene è l'unico motivo troppo così mangio resto con fuca sì sì oh 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 deve riflettere ne riparleremo dorme 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 ma lo lasci stare è ancora giovane per queste cose poverino andiamo a fare giardinaggio con il nostro amico Shinji oh oh No, non c'è nessuna preoccupazione. L'esplice è un po' di rinforzamento, ma non c'è nessuna ponte. Non c'è nessuna ponte, ma non c'è nessuna ponte, ma non c'è nessuna ponte. Ah, per lo che... Il problema di essere un po' di rispondre, è un po' di rispondre, che si senti un po' di rispondre, è un po' di rispondre. Se ti sei ridato, ti elimino dal rama dell'albero genealogico Non è portato, non è portato Non è portato, non è portato Non è portato, non è portato Non è portato, non è portato, non è portato Non è portato, 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 non è port Adesso sì che ti riconosco, Sanada, con i guantini. Adesso per la gioia di Leonida andiamo a passare il tempo con il suo preferito del gruppo, ovvero il lopide. La Shura che lo vuole adottare, se ci liberiamo di Yuka, Tanga vinceremo, vedrai, è pure facile. Povera Yuka, Tanga. Con amore il preferito di Melissa dice che è quello che dice le cose più sensate, in effetti. Oh, ha portato i takoyaki! C'è qualcosa che non va in tutto questo, takoyaki senza polpo per cani. Ok. Prendi i takoyaki, lascia il lopide, ci sto. Oh, intanto il nostro Yuchiko se li ha mangiati tutti, eh? Il suo, la sua parchettina lì è vuota. Ciao Ned, come stai? Ciao. Ora che lo guardo meglio vedo che ha un collare. Troviamo il suo padrone? Parliamo con la gente? Parliamo con la gente. Non è che qualcuno l'ha abbandonato, poverino? Se l'ha mangiato i coromanchi e pure i nostri, no? No, 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 no. Ce li siamo mangiati noi? Se nessuno l'ha dato per scomparso, mi viene da pensare che qualcuno l'abbia abbandonato. Al collare. Sarà della signora che adesso è incambiovole coromacchio. Sì. 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 ma stamattina sapevo di mangiarmi una bella matriciana fumante invece tutti i rivorti hanno cambiato i piatti in tavola e cose che capitano destino avverso tutti commensano prendono musica neomelodica in sottofondo mentre si avvicina alla finestra si avvicina si avvicina si avvicina perché coromario ti mette le ai esce dalla finestra non l'ho capita ma a proposito di yucatanga perché non guardare un dvd assieme a lei si avvicina 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 ma poverina si avvicina 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 se avvicina Grazie a tutti Ok insegnante di educazione fisica confermata Ah Yuko Grazie a tutti 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 Dipende da quanto si corre Anche me era stato detto facciamo solo quel pezzo di strada là a 12 km È andata all'incroce almeno ascolta Grazie a tutti No, non lo so No, non lo so... fallo tu e che cavolo il nostro contributo al coaching nessuno penso nessuno secondo me ma proprio nessuno è zero meno di zero però è lei che ci ha coinvolto in questa cosa ma chimica dov'è il mio amico ken dove è ken ma dov'è di sopra no aegis ah è qua sempre rinchiuso in camera mi sono per gli amici di terzo grado clark ken no lui cosa sta facendo ken cosa sta facendo che è in camera sua si allena alto la chi va la ho sentito dei rumori come puliva ma che bravo pulisce anche la stanza si allena si si allena secondo me avrà il complesso di inferiorità perché noi siamo tutti grandi nella squadra e quindi lui capito ecco meglio non dire cosa puliva in che senso è un bambino e invece l'unico che pensa è bravo che poi ti porti in giro ma no no un bambino un bambino ci deve dire i segreti e noi siamo tutti orecchi ma un cricettino un cricettino guarda lì è certo un bambino puretto è piccolo quanti anni avrà dieci nove vuole un favore ma guarda il cricettino da coppa mia la siglorina ha uno strano concetto dei bambini e della loro precocità attuale pet però questo gioco non è ambientato nel 2024 è ambientato nel 2009 o forse prima non mi ricordo l'anno però anche io pensavo così poi Melissa mi ha spiegato che adesso non è più così vabbè ma lei lei insegna ai ragazzini che sono un po' più grandi questo qua me lo ha spiegato come un bambino di sei anni tra l'altro ma perché sono tutte risposte brutte non accadrà potrebbe non essere facile perché io non accadrà potrebbe accadere tutto all'improvviso a nove anni a testa stai calmo cicci stai calmo sei anni che ne presi in ritardo ah però che dire c'è sei anni e tu te lo ricordi? io non ho memoria di quando avevo sei anni è troppo in là nel tempo io disegnavo Sailor Moon quando ero all'elementare questo me lo ricordo perché ho gli album ancora con i disegni di Sailor Moon che angoscia adesso abbiamo il menagram piccolo esatto è stato con Yucatanga va che ricordi dell'elementare? no io mi ricordo questa cosa qua mi ricordo che leggevo Sailor Moon e disegnavo Sailor Moon questo me lo ricordo che disegnavo sempre e nello specifico disegnavo Sailor Moon perché mi piaceva tanto leggevo il fumetto guardavo il cartone animato ho ben chiaro tutta la mia vita sono spawnata a quattro anni scusami ma quindi tu ricordi anche cose precedenti ai sei anni? perché adesso hai detto quattro anni cioè tu ti ricordi cose di quando eri così piccolo di quattro anni? quattro cinque anni? no io zero proprio le suore facevo quei disegnini da colorare o unisci puntini da a venivano fuori dei disegnini primo ricordo dell'asilo che spaccavo le palle volevo tornare a casa classic leonida già dall'asilo si intravedeva il futuro lui che scappa dalla scuola perché non ci vuole stare benissimo ad una campagna era capitato King Kong con la valore di fuori niente convocata mia mamma attenzione è un testo che già faceva gli scherzi alle bambine come si chiama? oh ma il crincettino si chiama hambaga il primissimo ricordo di tre anni con lo SNES ma ma io non ho mai avuto lo SNES a tutti a chi capita capita purtroppo è capitato King Kong proprio alla scassa cazzi maestra il mio King Kong ha qualcosa che pende laggiù è stato Spike anzi è stato Alessio più o meno sarà andata così io che cercavo di capire come cambiare la schiena blanca no bianca giocavi blanca non pendeva signorina anzi ah vabbè io ho detto pendeva speranzosa invece e vabbè bel nome che madre l'esorciccio quindi l'ha chiamato hamburger perché la sera che l'hanno portato a casa hanno mangiato lì hamburger ero fissatissimo con blanca ma va a me blanca non mi ha mai piaciuto immagina la scena Ken giocavo giocatore 1 contro giocatore 2 ma da solo te la suonavi e te la cantavi come si suol dire beh vincevi sempre o sbaglio no vincevi sempre giusto non era una tristezza eri furbo cosa si mangia hamburger deve chiedere scusa di che cosa poi da beh da volte vinceva il giocatore 2 che aveva la skin più bella perché so come ci si sente però vedi vedi adesso devo guardare i piedi del protagonista però lui ha le ciabattine come giusto in casa adesso andiamo a guardare i piedi di tutti perché se non li vedo tutti quanti con le ciabattine mi arrabbio sono d'accordissimo con questa iniziativa no scusami eh cioè allora siamo in Giappone siamo in casa io voglio vedere io pretendo di vedere le ciabatte a piedi perché si sporca il parquet si cammini con le scarpe si è andato fuori anzi la ciabattina scarpe fuori credo di intuire che il contenuto del cervello e quello della gabbia siano più o meno gli stessi certo pretendo pretendo sì 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 e che cosa siamo dei maleducazzi che andiamo in giro con le scarpe dove abbiamo camminato dappertutto un'altra mezzolo e che cos'è che bel dormitorio cammini scalzo ma scalzo totalmente cioè col piede nudo no io no io ho le ciabatte sempre in tutte le stagioni al posto di quello me ne stavo sotto i punti non ho parole sento la gente che parla ho sentito che sta per arrivare un brutto tifone credi che ci sarà lo stesso il festival culturale sabato no non penso da come ne parlano il tifone è troppo violento credi davvero che potrebbero annullarlo cavoli dopo tutto quello che abbiamo fatto per prepararlo senza calze pure d'inverno ho già freddo io ho i piedi gelidi anche adesso che ho le calze la coperta e il tappeto sotto i piedi le fidanzate di queste hanno finito il gossip eh si danno il cambio ho sbagliato abbiamo bisogno di fortuna che abbiamo della fortuna ovviamente no la fortuna non c'è mai quando la cerchi ebbene andiamo dall'Elisabeta è una vita così visto che mi pesa il chilo andiamo così brava facci strada ho le calze la coperta gli scarponi moon boot ho infilato i piedi nel cammino ma niente ho ancora freddo io si io ho freddo anche con le calze antiscivolo che sono quelle più pesanti anche se mi metto due paia di calze niente ho freddo allora fortuna io ti cerco non ti trovo eccola qua 9.922 yen quella meno cara pronta per invadere l'antardi più o meno ma non funziona non funziona a volte è capitato di avere due paia di calze due paia di pantaloni due felpe ma niente spara la tastiera con una colt modificata in cannone atomico quindi tu anche d'inverno hai sempre le calze leggere no 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 io ho le calze leggere e le calze pesanti invece per l'inverno perché ho freddo ho freddo anche con gli scarponi tipo io ho gli anfibi che hanno pure la sua lalta ok tipo il dr martins che hanno la sua lalta ma proprio quelli col tacco e tutta la para o ho freddo anche con quelli cioè io ho sempre freddo sì anche due paia di pantaloni in casa sì sì quando ho freddo freddo d'inverno ma non ma non continuo a avere freddo case che è il tuo turno l'inverno zero calze fantasmini fantasmini no non so come fai sì sì a strati mi vesto però dico che non serve lo stesso io già tanto se mi vesto lo faccio giusto perché è bellissimo me lo dice no io ho freddo io ho sempre freddo freddo anche adesso io infatti ho la coperta cos'è case care cos'ha case care oh non copiare case care ma che cosa mi ha citato le anfibi se metto le scarpe alte delle scarpe alte in caviglia sto male no no a me piacciono allora non le posso mettere più di un tot ok non posso mettere tipo lo stivale io perché ho il polpaccio grosso e non ci entra negli stivali e quindi mi devo accontentare perciò il massimo è alla caviglia appena ho sentito che aveva la coperta mi è sceso un rivolo di sudore dalla fronte infatti ma io ho freddo ho piedi freddi comunque ne metto due di stivali certo quindi il padre si è fatto prendere da questa cosa che ha già scelto tutto per andare a studiare all'estero ho degli anfibi originali esercito italiano rubato e ogni fa sono di una scomodità senza confini e lo so lo so perché le ho vissi conoscevo un'altra persona che le aveva e non so come faceva a camminarci dentro cioè sono proprio non so come fanno anche loro che devono stare in piedi magari tante ore a portare quella roba lì veramente allucinante boh a studiare arte non ha vinto il concorso gli davano la borsa di studio no? sì sì beh infatti il punto è che sono resistenti quello punto quindi lui vive questa indecisione perché non sa se vuole fare veramente l'artista ah vedi? non credevo che l'insistenza del padre riguardasse l'altra carriera quella in postoli beh puoi fare il dottore e l'artista eh beh devi dire se lo vuoi fare però se senti che andare all'estero per studiare è la cosa giusta bene se senti che non lo è e vuoi fare un'altra roba ti posso dire che non siamo come i cantanti vedrai poco insomma un po' come i batteristi tutti vogliono fare i cantanti diciamo ecco set è bello come il cocco se senti che forse lo mostro ma il cantante è sempre quello più gettonato beh sì perché alla fine della fiera è lì al centro del palco è ovvio io ho premiera e carte denari pari 2 a 1 reverendo a lei le carte allora questa sera leggiamo aspetta fermi allora io le scarpe vado abbattuto poi lui ma aveva le scarpe allora solo nella cameretta perché qua le scarpe cioè le ciabattine solo nella cameretta qua le scarpe poi mi sono allo stivale là quest'altro ha le scarpe quest'altro ha le scarpe i mocassini quelle della scuola quello ha lo stivaletto quest'altro cosa c'ha ai piedi stivaletto siete veramente guarda degli infedeli che schifo quest'altro lo stivale il vacheros lì da cowboy vabbè lui ha le za cos'ha in mano? no non lo spazzolo dove poi ti spazzolo un'altra volta non ho tempo tu cos'hai? pure tu i mocassini quelli che non si possono vedere io veramente sono scioccata che schifo senti bello pensato ad altro eh no era quello delle carte chiaramente si figuri noi noi umili disegnatori onorevole che che esche ha quel dubbio infatti tra un biblioteco d'artista le ciabatte in camera no le ciabatte in tutta la casa è un dormitorio nei spazi comuni non è obbligatorio l'ho capito però dai è come se fosse una casa no? di tutti quanti quindi in casa non solo in Giappone anche in casa qua le ciabatte non le scarpe eh ma è come se fosse una casa appunto anche se è un dormitorio è come se fosse una casa per me cioè ha l'aspetto di una casa questo già come se fosse se lo fosse una casa sì sì però appunto non riesco a pensarlo tipo spazio comune stile negozio eh albergo cioè c'ha la sala l'ingresso la biblioteca questi si cambiano le scarpe pure per entrare a scuola e nel dormitorio non hanno una regola che impone un cambio di scarpe non me la bevo malederti malederti quindi oggi siamo qui Sento la gente che parla Le fidanzate sono in vacanza comunque E durante le vacanze estive sei stato al festival cinematografico? No Quello al cinema di Port Island? Sì, ho visto qualche film Ho sentito che la prossima settimana lo faranno ancora Ma solo per un giorno, vogliamo andarci? Il 23 giusto? Stavolta passo Non ricordo qual è il tema ma mi sembra fosse molto bambinesco Pare che la settimana prossima, il 23 settembre Ci sarà un festival cinematografico di un giorno Dovrei invitare qualcuno a venire con me Chi l'ha detto? Se no che facciamo, 800 paio di scarpe fuori dall'ingresso principale Siamo giapponesi, un po' di decoro, cribio E basta una scarpiera, un armadio, qualcosa Ogni tanto mi manca Io opterei per uomini di scarpe e faccio le scalze Io opterei per tutti con le ciabatte Una scarpiera, sì, un armadio, qualcosa che contenga le scarpe Un armadio scarpale Cattivo presagio Perché ha un cattivo presagio? Ahia E il tifone? Come non importa? Ci vuole fare attifonare È sempre un cattivo presagio quando viviamo con Yucatanga Il bimbetto pure Adesso me ne agrami Ah, parlano chiaramente di Chidori Noi non uccidiamo le persone Qualcuno con esperienza diretta Si riferisce a Shinji Perché anche lui prende gli inibitori Prendeva Ma Chidori dove sta? E non l'abbiamo ancora vista effettivamente in questi giorni È sempre all'ospedale Trattenuta da noi Si apercii onorevole La signorina le abbandona Quelle con il nome che inizia così Cattivo presagio Sa tutto Sì sì, lui sì Lui ha l'esperienza diretta È un utilizzatore anche lui di Inibitori, credo Tutti e tre loro Penso E li smerciano Li smerciavano a Shinji Erosica pure perché Noi possiamo avere più persone E non uno soltanto È per il bene del mondo La pensiamo diversamente Accettalo Riffiutiamo il tuo cosa? Oh, finalmente l'hai capito che siamo agli antipodi. No, l'ho capito che non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Punti di vista Quindi c'è palesamente detto che combatteremo fondamentalmente La pioggia mi ha inzuppato tutti i vestiti, tremo in tutto il corpo Takaya sono pienamente d'accordo con te È spucchioso ed è apatico anche con tutte le femmine che ha incontrato Vuole fare l'eroe, ecco Levate le scarpe che succede l'inferno, Ichigo Il figlio dei fiori si sta a scaldare Il figlio dei fiori è rosica fondamentalmente Perché comunque Pensa che noi stiamo buttando nel cesso il nostro potere Dato che vogliamo sconfiggere l'ora buia Ed eliminare il tartaro Peccato non vedremo Yucatanga stile maid Grazie Huka Mi aspettavo delle belle notizie da Yucatanga E invece Parla lui, che è molto impegnato Io farò l'eroe inetti Esatto Oh, è un film? E' un film? E' un film? E' un film? E' un film? Mo Joon Pei Non è che perché te c'è la regazzina Adesso tutti devono avere gli appuntamenti Non sentivo i netti dal 1994 Appuntamenti qua Non ce ne sono di appuntamenti qua Oh, ma perché vuole sapere i fatti di tutti, Giunbeppe? Stolti Non sentivo Stolti dal 1999 Quindi Stolti più recente di Netti No, non si sono fidanzati, però Lui è sempre al suo capezzale Sta lì incatenato a letto Oh, grazie Grazie, Mitsuru Qualcuno glielo doveva dire Perché ti interessano tanto gli affari nostri? Giunbeppe Ah, solo perché ci vuole raccontare i suoi Bene Ops Aigis gli ha rovinato la festa Ha spoilerato quello che andava a fare Come se ci volesse un genio per capire, no? I due carcerieri stanno in giro, no parole Perché io, io Sono amici alla fine e si sta a scambiarsi i secreti Ma sì, ma l'ha fatto con fare Inquisitorio, capito? Ho la femmina quest'anno Pirletti, eh? Eh? Chi è che rimane solo a casa? Eh? Non io Perché io vado all'ospedale a trovare la mia ragazza Oh, kawaiiine Ha detto lei che vuole Che la vado a trovare Non c'è molta e molta e molta e molta No, Mitsuru Gli ha chiesto perché Gli interessavano tutti questi fatti Dopo tre ore che chiedeva Tu cosa fai? Tu cosa fai? Tu cosa fai? Tu cosa fai? Ah, io la ragazza Così Ma non è successo Non è successo Semplicemente lui va tutti i giorni a trovarla all'ospedale E lei tutto sommato L'altra volta lei gli ha detto che Odia gli ospedali, no? Non si è capito bene Però da come parla lei Sembra che lei Sia stata Tanto in ospedale In precedenza Magari quando era piccola E probabilmente Nessuno l'andava a trovare Parlando con Giunbeppe Ha detto che odia gli ospedali Però Qui lo sopporta Perché lui la va a trovare Ok? E quindi Si è creato un po' questo rapporto In cui lei comunque è contenta Anzi Gli ha chiesto Di tornare a trovarla Perché Vede che qualcuno Ha dell'interesse per lei Qualcuno le può dare attenzioni E quindi si è aggrappata Un po' a Giunbeppe Giunbeppe le ha portato Lo sketchbook La va comunque a trovare E lei è contenta E a suo giro Le ha chiesto Viene a trovarmi Cosa che non c'era bisogno Di chiedere Perché lui andava lo stesso Perché lui stesso Lui proprio ha detto Io non riesco a fare a meno Di andare lì È tutto nella sua testa Bene No, no Lei comunque ha dato Dei cenni di Interesse Diciamo La prossima volta Che Mizzero rompe la wall Lei risponde così Poi vediamo Poi ci picchia Se lo facciamo Allora anche Mitsuri e Sana Dai carceriere Sono fidanzati con Cidori Sì, ma loro sono lì Con l'intento di sorvegliare Cidori Lui no Lui va lì perché È interessato Illuso verrà frenzonato Magari no Mi sa che sia Che ci ha censurato una scena No, non vi ho censurato niente O è successo l'altra volta O la volta prima Comunque Una delle ultime volte Lei ha detto Sta cosa qua Akihiko che non comprende l'amore No, per la precisione O è successo ieri O l'altra volta O la volta prima Due mesi fa Comunque è così Esatto È così Non è colpa mia Se non state attenti in classe Cinque e mezzo Ma cosa va a fare Al tempio Giunbeppe che prende per il culo Che è un povraccio Sì, io non ho tagliato niente Qua ero Sempre qua Perciò Guarda come diligente Ma secondo voi Questa qui per terra Mi sento un po' giù Forse stasera dovrei andare a letto presto Dicevo Secondo voi Questa qui per terra È una moquette O è un pavimento Un pavimento Mi sa Perché Cioè Di tappeti sopra la moquette Sarebbero un po' ridondanti No Sì, se no Per me è un pavimento Anche se sembra una moquette Sono dei Lego Per quello tengono le sgarpe Vabbè Vabbè Andiamo a dormire presto Visto che ci ha sgridati il gioco Sento molto freddo Oh, siamo malati? Forse ho raffreddato Cos'è quella roba là? Non credo di poter restare sveglio ancora molto Attenzione Ciao Rullo Come va? A Kikiko Il misterioso uomo Intendi Shinji? Perché sono interessati a Ken? Eh... Boh Non ci hanno ancora spiegato Cosa ha di speciale sto creaturo? Eh... Non ci hanno ancora spiegato Però è chiaro Che c'è un legame In qualcosa che è successo E direi che ho due camicie Due pantaloni Due calze Due scarpe Due occhi Due bracci Due gambe Due par... Vado a letto va Ma sentiamo cosa da dire Il nostro amico Igor Con saggezza intendi che andiamo a risparmio Sempre sì? Perché se intendi quello Allora sono stata saggissima Nell'utilizzo dei per zona Ma certo Eh... Oh questo ci porta sfiga Questo è un altro E questo è parente di Yucatanga E del bambino Sarò schietto Nel tuo futuro Percepisco una catastrofe Grazie Grazie E' sempre bello Ricevere parole di rincorraggiamento Insomma Eh... Un altro Ma sarebbe un peccato Perdere qualcuno Con un tale potenziale Quindi Ah Pet Permettimi di offrirti Una nuova forma di aiuto Bene Beh Da da Ehi segreti Piureconditi Della fusione Esagerato Mi faccio una carezza al naso Per scaramanzia Non è che porta sfiga? Certo che quella segna Non vale una lira Ah Le fusioni speciali Ora hanno nuove combinazioni Bene 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 E vabbè Oh Sono passati due giorni così Ma Sembra che io abbia dormito a lungo Il tifone sembra passato del tutto Guardando dalla finestra Il cielo è sgombro Mi sento meglio Oggi è il giorno degli anziani Finalmente Il 23 sarà vacanza E' il mio giorno Due giorni a letto ha fatto Ma era malato Si è preso un malanno Per colpa di Di Jesus Oggi non si va a scuola Ora che ci penso Quello che ho piantato sul tetto Dovrebbe essere pronto per la raccolta Dovrei andare a controllare Aspettate un attimo però Ma Queste robe Cos'è quel certificato là? Allora Un certificato con su scritto Diciottesima competizione scolastica annuale argento Grazie agli allenamenti estivi di atletico Ho stabilito un record personale al torneo Però E la maschera di Featherman Lee? E lo scatolo? E la conchilia? Non avevo mai notato E quelle robe comunque Ogni scusa è buona per non uscire E beh Il naso ha lo stesso occhio Languido che Languido che io Quando esce un nuovo banner Madonna Ma io non sto nella pelle Che finisca sta Sta ciori qua Perché io mi devo pullare Novi let E che cos'è? Che sarà mai un tifone? Un ultra bello grosso? Oh no Pur di non riuscire a bacagliare tutto fa brodo No Non è vero Non è vero Ma andiamo in giro con il nostro amico Shinjiro Che lui si che sa come si fa a divertirsi Ci racconta le cose belle No Ah ma lui non è mai qua Lui dobbiamo Ecco cos'è Andiamo Andiamo Usciamo con Shinji Magari ci racconti i secreti No che non ce l'ho L'ho dovuto saltare Ho perso Non mi ricordo se ho perso il 50-50 E ho rinunziato O se non avevo neanche provato a prenderlo Però secondo me ho perso il 50-50 Io le do l'arma Maron Si la voglio Ma tra l'altro Ho deciso che non prendo più il pass Quindi non prendo l'arma Quella gialla Come si chiama? Il tomo del battle pass Gli darò l'arma dell'evento Quella con la ricarica di energia Sarà difficilissimo da bilanciare Ma vabbè Punto sul fatto che è forte Eh perché non basta 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 Non ho voglia di spendere 50 euro Per prendere l'arma e raffinarla onestamente Ci racconti i secreti? Cosa dà? Cosa dà? Cosa dà? Quindi lui comunque non si è mai ritirato Lui risulta assente da scuola Ah ecco perché può usufruire del dormitorio Quindi con la questione dell'assenza Non rischia l'espulsione Perché altrimenti rischierebbe quello E a quel punto non potrebbe più presentarsi al dormitorio No no Mantesso No 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 È che quando io prendevo il battle pass A presente no? La striscia sotto del battle pass L'arma è un di più Nel senso che tu A me interessava non per l'arma Mi interessava per le risorse Perché mi interessava avere più pool no? Più pool Più libri Più tutto E Quando compri il battle pass Puoi scegliere un'arma Ok? Ogni volta che tu lo compri Puoi scegliere un'arma E io mi ero comprata Cinque copie No Ho preso Aspetta beh Ho preso cinque Perle solari Perché usavo l'isa E l'avevo presa per lei Gliel'ho raffinata al grado 5 E poi sono andata avanti E ho preso la spada nera Che ce l'ha All'ItamTam E ne ho presa anche lì cinque copie Perché l'ho raffinata Siccome mi sono detta Basta non c'è più voglia E da 5 5 Sono 10 euro al mese 50, 50, 100 euro Però l'arma è un di più diciamo Visto che la scegli Scegli quella che vuoi te E ne sono disponibili Non mi ricordo quante Adesso sono raddoppiate Perché ci sono quelle Che c'erano prima E quelle che hanno aggiunto Adesso con Fontaine E quindi siccome Non lo voglio più prendere Avrei preso Se avessi continuato a prenderlo Avrei preso Questo tomo Di Fontaine Che va molto bene Come arma per novi lette Però Non ho voglia Di spenderci soldi ancora E quindi Non lo faccio Non prendo neanche La prima copia Capito? Proprio non mi va No 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 Io non ho mai pullato Nel banner armi Ho pullato Ho preso L'arma di Di Ayaka Ma perché avevo le pull Per farlo Non è che ho speso Leonida invece Si è innamorato Delle armi Più dei personaggi Forse Che delle armi Cioè più di Pardon Si si è innamorato Ancora di più Dei personaggi Delle armi Non so se Ha senso Non vi bastano Pg c78 Io non ho pg costellati Io 5 stelle Non ne ho neanche uno Costellato Quelli che ho Tipo Kyo Ching e Cici Ma perché Ho perso 50-50 Però di quelli limitati Non ne ho Non ho mai preso Costellazioni Perché preferisco Prendere più personaggi Piuttosto che le costellazioni Nelle armi Purtipullare a speed Rannato l'evento Intendi l'evento Delle pozzoncine Quello lì A me è piaciuto Quello lì Per me è tutto Un di più Si 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 È un di più Assolutamente Anche perché Non sono Cioè ti aiutano A fare meglio Diciamo A fare più danni Però non è che sono indispensabili I personaggi vanno Cioè Se tu hai dei bei manufatti E quelli sono in mano Alla RNG Comunque Riesci a tamponare Non ti avvicini All'output di danno Che ha un'arma 5 stelle Però Il tuo lo fai Intanto alla fine Cosa serve? Quasi impossibile perire Devo proprio lasciare Il pad a terra No non è per Non è tanto per Per sopravvivere Le armi 5 stelle Ti facilitano Tanto Quando vuoi fare L'abisso a 36 stelle Siccome l'abisso Fatto con tutte le stelle Ti dà risorse in più Magari Uno decide di investire Sull'arma A 5 stelle Perché appunto Fai più danni Il personaggio più potente Impieghi meno A finire le stanze E ti prendi anche Quelle primo gemme lì Gratuitamente Sono un aiuto in più Anche quelle Però Se uno non interessa Basta fare l'abisso Non serve La rocce 5 stelle Non serve Basta livellare i personaggi Basta livellare i talenti Basta Quello Dargli delle belle armi Le armi giuste E anche per bellezza Perché esteticamente Di solito Le armi Del personaggio Sono quelle Uno Migliori per il personaggio E due Anche esteticamente Che stanno bene Col personaggio C'è questa duplice cosa A me non interessa Proprio l'abisso Nel fare il pro Insomma Ogni tanto ci mettiamo Abbiamo un po' di storia Di recuperare Sì sì Vabbè Ognuno gioca come vuole Sì sì Ai fini del gioco Se non ti interessano Quelle cose È inutile Sono soldi Letteralmente buttati Bellissimo l'evento Ma lungo quanto un arco A me è piaciuto un sacco Più lungo della storia Non lo so Se è il più lungo Di sicuro È quello Che ha una struttura Più particolare E ti dico Che io Quella struttura L'ho già vista Perché in Onkai C'è stato già Più di un evento Con quello stile lì Un po' gestionale Viene da lì A me è piaciuto Sì 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 No 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 Ho capito Ma adesso Ci sta Ci sta Perché se a uno Non interessano quelle cose Sì A meno che a uno Piace l'estetica E poi comunque Puoi prendere le armi Anche Allora Quelle del pass Sono esclusive del pass Nel senso che Quelle armi Dove tu paghi Non le puoi trovare Da nessun'altra parte Sono Di tutti i tipi di armi Di fontaine E vecchie Solo lì Però le armi limitate Dei personaggi Quelle te le puoi prendere Anche senza pagare Se hai culo E vinci E la trovi subito Quella che ti interessa O se hai tante pull da parte Comunque riesci a prenderle Anche da free to play Le armi Cioè proprio Non c'è Non c'è pericolo Chiaramente devi risparmiarti 320 pull Per avere Il garantito Perché Il banner armi Ha lo scam Dei punti del destino No Però Cazzo un caio Dove andare avanti Vabbè Con calma Prenderò l'arco di Tinari Lo sottoscrivo Lo dico Per chi lo prendi L'arco Per lui O per Per chi va bene Oltre a lui L'arco di Tinari Sono talmente interessata Agli archi Che non so neanche Cosa fa quell'arco lì So che Più di una persona Lo vuole Lo desiderava Spasmodicamente Ne voleva il ritorno Perché per Ganyu Per Ganyu Non hai già Madonna C'è l'acqua simulacra Quello di Linney Non hai anche Quello di Ganyu Proprio Che è quello lì Che esce anche Dallo standard La regina degli archi La tua Ganyu C'ha un arco Per ogni giorno Della settimana Per ogni reazione Perché la dè a me Va giornata alla capra Ma perché Mi stai dicendo Che l'arco Vecchio di Tinari Che è più vecchio Dell'arco di Linney È meglio sulla capra Stai dicendo questo O Su una build Della capra Non in reverse melt Come la giochi te Ecco guarda lui Che cerca di evitare Le seccature Non sono d'accordo Non sono d'accordo Perché è un affare tuo O te ne occupi te Affronti le conseguenze Di quello che vuoi fare Scusa FK Pone Casa di assisti Tanto adesso stacc È best in slot Per reverse melt Scusa Invece Quello di Linney Ma bene Aspetta Aspetta Quello di Linney Invece Tra l'altro Che cosa ha come statistica Quello lì di Tinari Avrà una roba da reazioni Perché Tinari Gioca mica di reazioni Però anche lui Di frecce caricate Linney avrà il suo dunque Era best in slot Fino a quando Non hanno rimesso Quello di Tinari Ma È verde È verde L'arco di Tinari Io non ti giuro Non ce l'ho neanche presente Visivamente Perché se è verde Suganyu No Sceno Verde e bianco È bellissimo È bellissimo ma non su di lei Verde Centro al verde Sono Scusa Il suo suo Invece ce l'hai Non mi ricordo più Se ce l'hai Come si chiama più Il suo Non mi ricordo il nome Oh comunque io ho finito Quanta quasi 90 Quasi 90 50 tipo La mia La mia Ielan aveva Emano fatto un po' Eh Però anche Con i mani Fatti un po' Troppo Teto Faceva 12 14k Col dado Quanto di energia 245 245 di energia Giusto un po' Che poi comunque Anche se non ho Il danno Altissimo Ho detto Vabbè Con tutta Sta ricarica D'energia Alla fine Lei converte La ricarica D'energia Comunque In danno Perciò Vabbè Ma Leonida Tu però Hai l'acqua simulacra No Su di lei E Cioè io ho un'arma In ricarica D'energia Conta anche quello Io ho l'arco Di favonius R5 E per quello Anche ho tanta Ricarica D'energia E poi Mi è rollata bene Nei manufatti Per una volta Tanto O culo Sono invece Un po' Delusa E non so Perché Non so Se è perché Lo sto giocando Con una reazione Che non è Proprio il suo top Da Iato Perché mi sembrava Di aver fatto Un buon lavoro Nel bilanciamento Mi sembrava Che avesse l'attacco giusto Il bilanciamento giusto Di tasso danno Però Mi fa 13 14k A colpo E pensavo Facesse di più Ma è anche vero Che non lo sto giocando In vaporizzazione Ma lo sto giocando In iperfioritura Perché Boh Non so perché Perché ho visto Quel team lì Che era Da una parte Lo segnava come Premium team L'ho fatto quello Con la scusa Anche di poi Buildarmi Mi attirava quel team lì Perché buildavo Yunjin Buildavo Kishinobu Che non avevo mai buildato Però Mi aspettavo di più Dei uscite già con l'arma Deia ci sei no adesso? Me l'avevi detto Deia Ah no L'arma di Deia Intendi Sei riuscito a prendere Quindi quella di Deia Come ti trovi Con la sua arma? Migliora? Junpei Quindi lui piuttosto che Essere bocciato Preferisce Farsi spellere PT51 Beh dai Bene A me la cosa che proprio Non piace di Deia È il suo Tripudio elementale Quello lì Non mi piace Sai cosa stava pensando Mitsuru Quando ti ha dato il modulo Non dirmi che hai scordato La promessa Quale promessa? Scusa E poi perché dice Che quando Avrà finito di combattere Non avrà più bisogno Di una scuola La scuola Eh non mi piace perché Non ho Non hai Controllo Cioè parte E targhetta lei Fa lei Non mi piace questa cosa Cioè lo trovo poco Non lo so Il suo santuario Il suo santuario invece mi piace Infatti va bene Come Per come vorrei usarla io Per come vorrei usarla io Non lo dovrei neanche usare Il suo tripudio alla fine Anche perché La vorrei usare Per mitigare i danni Non mi interessa Usare il tripudio Mi interessa Buildarla praticamente Tutta il suo HP Fondamentalmente Perché assorba Più danno possibile Ma non saprei neanche In realtà In che squadra metterla Però mi piacerebbe Un giorno buildarla Infatti le ho messo Quella spada lì Quella spada sugli HP Quella nuova Di Foden Che davano In un banner Non mi interessa Non mi interessa Haiato non si gioca in vape? Sì, sì. Diciamo che a Hiato si può giocare un po'... con più reazioni. Una delle reazioni in cui si può giocare è appunto anche l'iperfioritura. È un buon driver anche per l'iperfioritura. Buono ma non ottimo. E si vede. Appunto, come ho detto, ho voluto fare quel team lì perché volevo una scusa per buildarmi Yunjin e Cookie che non avevo mai buildato. Però sì, credo che... non so se la sua reazione è migliore, la vaporizzazione, però credo sia più forte. Anche perché, diciamocelo, in vaporizzazione giochi Bennet. Ecco lui. Che Bennet fa Bennet. Ecco. Allora... Io... Poi dovrò andare nel tartaro, quindi mi sa che... Continuo ancora un secondo, facciamo la serata e la mattinata del giorno dopo. Così poi salvo nel tartaro e mi faccio il tartaro da sola, come al solito. Anche perché devo arrivare al 144. Ok, allora andiamo a lavorare part time. In Vepal due perdi danni, visto che ha due super... Eh, infatti, però, abu... A parte che non ci piegono ne uno, ne due a metterlo da l'altra parte, comunque... A giocarlo diversamente, però... Ehm, no. Volevo andare a lavorare part time, non ho la velve truona. Ancora zero sabbia, eh. Beh, indovina un po', io ho ancora zero corona su maestria, però ho ottenuto la corona su tasso per Yelan e così ho potuto finirla. Adesso sto scamboczando i pezzi, senti un po', dell'amata fanciulla per Chevroise, perché ho deciso che a Chevroise non ho voglia di farmare il set quello là nuovo. Anche perché per sfruttarlo a pieno Chevroise dovrebbe essere C6 e io non ce lo C6. E non posso metterle il noblesse perché nella squadra dove la metto c'è già Bennet che ha il noblesse e il noblesse non è accumulativo. Quindi l'amata fanciulla va bene perché è un set da curatrice e tutto su HP andrà così. E allora sto scamboczando lo schifo che mi dà nel Fiore del Paradiso nell'amata. Tra l'altro stamattina ho fatto la cazzata del secolo, ho scamboczato sbagliato, ho scamboczato nell'ultimo atto del gladiatore, perché ero sovrappensiero. Nove pezzi. Eh? Vabbò. Sto per iniziare a fare una pausa per salire Naid, sì ti conviene, ti conviene perché magari fai una pausa poi torni e te lo dà, se no diventi scemo praticamente. Sarebbe anche ora che mettessero quei manufatti di merda nello scambocz così uno non va più a farmare in quel dominio, che ti serve a niente praticamente. Sto visto ancora non l'ho finito io, ho fatto solo piani 9-10 stamattina un po', mi è pesato il culo. Pronta? Vi controllo mille volte, eh, stamattina anch'io controllo di solito, stamattina ho cliccato e niente, ho buttato nuove volte fatti. Shaling cosa? Devi tirare su Shaling? ancora ma chi è un centralino oggi per l'antà no finalmente dopo un anno mi decido si si fai bene fai benissimo come la fai cosa le dai che per caso l'eremita ma ovvio che no ovvio che no che domande ho tutto pronto deve solo andare a 90 pure i talenti bene 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 quindi cosa fai preda e fatto spezzato creda potrebbe andare bene anche la scaccia draghi però se è lei che triggera le reazioni però emblema del fatto spezzato eremita sono indeciso sulla mazza draghi dipende appunto se dipende da dove la metti perché se è lei che triggera la maestria va bene e quell'arma va bene altrimenti non te ne frega niente con la preda sicuro ti tira il tripudio più spesso perché la forza di shaling è quel tripudio fuori di testa poi l'aumento di tasso è troppo goloso eh ma anche il fatto che la preda c'ha tutta quella ricarica di energia davvero ti permette di tirare il tripudio a go go poi in più dura un sacco con le costellazioni tipo po' se poi bilanci bene tasso e danno woohoo dov'è sto eremita l'ho passato vero l'ho passato ah eccolo qua arrivo già a 327 natural dm allora ho il set più scolato della serie ma con chi è che la vuoi giocare non ho capito io la uso con navia benni navia jong lee benni e shanling ganni per ora ma io shanling ero uno dei personaggi che usavo con la viaggiatrice ancora avevo lisa la viaggiatrice animo shanling e barbara il mio primo team il mio primissimo team ciao crono come stai? pure monopaira con deia su che la posso ma monopaira devi fare il monopaira con l'inei ti prego fai il monopaira con l'inei mi brillo altrimenti c'è veramente l'inei monopaira adesso con anche il suo arco tu farai esplodere tutto con quella roba lì certo che ce la deia ce la ci sei ah 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 Ah, chiudono il gioco a cui giocano loro, Innocent Scene Chiudono i server, gioca partito Abbiamo fortissime delle ricambiate, esatto E' un programma linea, ah, meno male, mi stavo già brillando, altrimenti Tanto Mai è depressa perché le chiudono il gioco Chiudono i server, gioca partito No, è la fine, ma non è che risposta, esatto Oh, certo che c'ha anche i raid negli LAN Non se le poteva far scappare Poi andiamo a farci leggere la fortuna Prima di entrare nel tartaro Così incontriamo le ombre rare che io sistematicamente non prenderò Dove sto andando? Guardi qua, abituata ad andare dal monaco Divinazione della rovina? Cos'è? Cos'è della rovina? No, chi se ne frega De la rarità Dove è Fuga? Di sopra Eccola qua Eeeh, sono tutti le... Guarda che sta mangiando giù Beppe Mangia il ramo in istantaneo Ho fame Eccola qua Eccola qua Giù Beppe si tratta benissimo Leonida ha una futura carriera Come fotografo di waifu Ok allora Parliamo un attimo con lei No volevo parlare con lei Non entrare Ma perché Sono scomparse altre persone tra l'altro Dentro Tartarus Sentiamo Percepisco qualcuno 119-124 bene Perichiesto? Avete sentito? E' impazzita E' impazzita Però Ok squadra Così sono già preparata Mi piace questa? Si mi piace questa Salverò così Però salviamo Qua Salviamo qua Ok Va bene Due individui ma saranno studenti normali Non so perché a volte ci capitano anche non studenti dentro Ci capita Chiunque Risale a volte fa impressione Ma sì perché E' impazzita La prima volta che l'ho sentita Ho detto ma cosa dice sta qua Impazzita proprio totalmente Comunque ci vediamo domani in via del tutto eccezionale perché appunto recupero la live che non ho fatto ieri Quindi ci vediamo domani sempre alle 5 Come sempre scrivo su Miss Cord Ringrazio tutti quanti per la compagnia Vi auguro Buona serata E buona Suena Adio mesami Adio 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 E non fate come Elisabetta Non impazzite Adio E non fate come Elisabetta 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 E non fate come Elisabetta